E' una partita estremamente equilibrata ma godibile quella che vede gli ASD Kronos in maglia verde battere il calcio d'inizio contro gli AC Linos che giocano in casa. Ci divertiremo tanto nonostante il frassuono circostante che condizioni le giocate dei singoli e l'andamento della partita. Ci vuole pochissimo affinché si arrivi al primo gol. Sono i verdi infatti i Kronos che dal corner imbeccano Cuboni solo al centro. Il portiere non ci può fare nulla al secondo della partita è già sbloccata. Ma poco dopo, precisamente 4 minuti dopo, nella gioia generale degli avversari arriva il pareggio e Taberlet che al sesto, sempre dagli sviluppi di corner, stoppa di petto, finge, manda a vuoto due giocatori e tira forte sotto la traversa per l'1-1. Siamo solo al sesto minuto, sembra ci possano essere tantissimi gol in programma ma a questo punto ci si blocca per un po'. Finché al quattordicesimo sono i Kronos a rendersi pericolosi, la luminaria si torna indietro, si va avanti, sterzata, tiro e conclusione che si allarga. Poi, poco dopo, al sedicesimo è Puzzoni che, approfittando del servizio del compagno, scarica in porta al sedicesimo. A nove della fine del primo tempo ripassano avanti i Linos in maglia bianca. A questo punto, 60 secondi dopo, sono i Verdi che, sfruttando una punizione d'esterno, precisa, con una leggera incertezza del portiere, al diciassettesimo trovano appunto il pari. E stiamo al 2-2, un primo tempo scoppiettante. Sono ancora i Verdi a rendersi pericolosi con la conclusione ma è fuori controllo, palla altissima. Si va a riposo su questo risultato e si riprende così, la partita viaggia sui binari dell'equilibrio finché al terza ripresa troncia, batte un piazzato, palla precisissima, sfiora la barriera, sfiora la base del palo e call. Sono di nuovo in vantaggio i Kronos, i Verdi si portano avanti all'inizio del secondo tempo. Non si fa tendere la reazione dei Linos che, 35esimo, provano a segnare la luminaria sempre da quella parte, scarico dietro, conclusione che si alza bene ma si allarga. E finisce fuori. A questo punto i Kronos provano a conclusione dalla grandissima distanza, palla che esce Sibilando a fianco al palo. E a questo punto, a tre dalla fine, è Sara De Linos che riesce da sottoporta a approfittare del dribbling del compagno a scaricare il rete. E il gol del 3-3 e la partita finirà su questo punteggio. Nonostante le ultime occasioni che vedono i ragazzi in maglia bianca insistere, il punteggio rimanere sul 3-3. Serata godibile sui campi del seminario.